Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere che cosa porta l'eclisse solare dell'8 di aprile. Ci sarà un po' un rimescolamento di tutte le carte e andiamo a vedere con queste due scelte che cosa potrebbe succedere o quale potrebbe essere diciamo l'andamento energetico per i prossimi sei mesi. Abbiamo due scelte, la prima è un sole e la seconda è la carta della luna. Trovate comunque il minutaggio in descrizione. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone del primo gruppo. Andiamo a vedere come influirà l'eclisse dell'8 di aprile. Vi ricordo che comunque sono letture generiche, è facile che non risuoni tutto. Se non risuona se nulla ragazzi potete ascoltare l'altra lettura. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione del video perché trovate link a video che potrebbero interessarvi, alla guida per capire come integrare più letture, gli oroscopi del 2024 e i corsi gratuiti. Ok, allora partiamo con un 9 di pentacoli, asso di coppe, cavaliere di coppe, due di coppe, quattro di spade, la giustizia e un 7 di pentacoli ragazzi. Allora devo dire che sono belle carte, si parte da questo 9 di pentacoli, come è la sensazione che molte persone qui potrebbero essere single o comunque potrebbero avere una forte indipendenza personale. Abbiamo anche questo asso di coppe. è un cavaliere di coppe. Allora vedo due possibili letture qui ragazzi. La prima, quella che mi è saltata all'occhio, potrebbe parlare di una relazione romantica, cioè quello che arriva potrebbe proprio essere una relazione romantica, un fidanzamento o se già state frequentando qualcuno potrebbe esserci come il passo successivo, un'ufficializzazione. Diciamo che se adesso avete una storiella, nei prossimi sei mesi potrebbe diventare un fidanzamento. Quindi c'è come una sorta di evoluzione da un punto di vista emotivo. Andiamo a vedere carta per carta così vi do più specifiche. L'altra versione potrebbe riguardare il lavoro o diciamo certe collaborazioni che potrebbero arrivare nel prossimo periodo. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. regina di coppe e cavaliere di spade. Si, c'è questa sensazione di indipendenza. Ragazzi, per qualcuno, se state cercando figli, può essere un ottimo periodo del prossimo semestre. Potrebbe proprio arrivare la gravidanza, perché ho diverse carte che me lo dicono. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Sento questo gruppo di carte come se ci fosse qualcuno che accudisce. Wow, un altro asso di coppe. E un otto di spade. Voglio andare a vedere anche il cavaliere di coppe. Ragazzi, qui ho tutta la sensazione che qualcuno non voglia innamorarsi o non voglia, per esempio, avere quel bambino o quel figlio di cui parlavo prima. Se non è un figlio è un progetto, ok? Per paura. Allora, quando c'è l'otto di spade, di solito è perché c'è qualcuno che vede tutto molto nero, più nero di quello che effettivamente è. È un'attitudine mentale da vittima, è un'attitudine mentale di qualcuno che si lamenta sempre e per tutto, che non è mai contento, che vede sempre tutto in modo catastrofico, in modo pessimista. Però ho come la sensazione che in un certo senso questo taglio cambierà. Guardate, avete di nuovo il 9 di pentacoli che qua è il 2 di coppe e un 2 di bastoni. Devo dire che questo cavaliere di coppe mi fa ben sperare. Allora, se fosse per esempio anche una situazione lavorativa dove si tratta di iniziare una nuova collaborazione piuttosto che di iniziare un nuovo progetto, oppure, nell'esempio in cui ho fatto prima, se ci fosse il discorso di un figlio, piuttosto che di passare il livello successivo all'interno di una relazione, ragazzi, sento che nei prossimi sei mesi sarà così. Il cavaliere di bastoni, quando arriva, arriva per portare una comunicazione di un certo spessore. è la proposta, quindi la grande proposta, diciamo. Scusate. La grande proposta, diciamo così. Allora, potrebbe veramente essere una questione lavorativa, perché qui abbiamo di nuovo questo 9 di pentacoli che mi parla di qualcuno che è autonomo, nello specifico, e che con il 2 di coppe si stanno prendendo degli accordi per guardare ad un futuro, per un eventuale progetto. È come se ci fosse una sorta di alleanza in questo periodo. Sia che siate, diciamo, che per voi la lettura vibre da un punto di vista romantico, piuttosto che lavorativo. C'è come una sorta di prima, no, forse un po' scappo, un po'... La sensazione di accudimento di cui vi parlavo la sento verso voi stessi. È un po' come dire scappo perché mi devo proteggere. E qui è il... Ma non so se fidarmi di questa persona, del progetto, del momento storico magari in cui siamo, c'è un qualche cosa che vi lascio un po' lì, ma ripeto, avete questo 8 di spade che vi fa vedere un po' tutto troppo nero. Però il potenziale per un buon accordo c'è tutto quanto, ragazzi. Adesso andiamo avanti, andiamo a vedere questo bellissimo 2 di coppe. O un'altra volta al 7 di pentacoli. Ragazzi, gravidanza da tutte le parti. Ok, gravidanza, progetto, insomma. Perché qui effettivamente c'è anche un fante di coppe. E devo dire che sento sempre di più o che qualcuno vi proporrà questo... Andiamo al passo successivo. Creiamo un accordo, creiamo una collaborazione. O appunto, di nuovo, è questo figlio che si vuole. Voi vedete, quando io parlo di figlio, va bene anche la parola progetto. Ok, perché ognuno magari è in età diverse, però prendete questo soggetto come se fosse un qualche cosa da accudire e da portare avanti piano piano, da creare, da coccolare piano piano. È un po' questo il senso. Sia che sia un figlio, sia che sia un progetto, ragazzi. C'è un qualche cosa che va coccolato, custodito e anche un po' protetto. Che secondo me è la nascita di qualche nuovo progetto, qualche nuova collaborazione. Andiamo a vedere il quattro di spade. Ripeto, di nuovo di pentacoli può fare riferimento o a quello che è un lavoro autonomo, una persona molto indipendente, soprattutto a livello appunto lavorativo, a livello economico, ma anche caratteriale, oppure rappresenta la gravidanza. Quindi questo stato progettuale, diciamo, di gestazione di un progetto, perché poi il progetto lo vediamo anche qui. Quindi prendetelo come più vi risuona. Allora, il quattro di spade è spiegato da un diavolo e da un tre di coppe. Quindi, ho come la sensazione che potrebbe esserci qualche interferenza o la paura di qualche interferenza. Probabilmente qui qualcuno scappa o, fino adesso, è stato in una sorta di zona di protezione per paura di soffrire. Perché vi dico, quando c'è una regina di coppe, la connessione con il proprio lato emotivo è fortissima. Ed è un po' per quello che qui è come se sentissi che non vi volete esporre troppo. Però, ripeto, è una questione di protezione, è una questione di vedere le cose più negative di quelle che sono. Bisogna anche iniziare un pochettino ad aprirsi al mondo. Cercate un tipo di accordo che sia in equilibrio con voi, che vi faccia stare comodi, che non vi faccia sentire a disagio. E dove sentite che siete a disagio, ne parlate con l'altra persona e cercate di correggere un pochettino il tiro. Perché ogni relazione, sia lavorativa che romantica, va creata poco per volta e va costruita in modo che ambedue le parti si sentano comode all'interno della relazione. E qui con questo 4 di spade mi dice che è come se ci fosse da guarire, da sanare qualche tipo di condizionamento o collegato ai figli, ripeto, soprattutto se qui si tratta del vero tipo. Vi faccio un esempio che mi viene. Ci sono delle credenze limitanti che fanno più o meno così, che dicono così. Essere madri, tipo, adesso vabbè la parola è un po' forte comunque. Ne cerco un'altra. Essere madri ti neutralizza come donna. Quindi molte persone, molte donne in questo caso, per non perdere la parte femminile di sé, la parte di donna, per non perdere qualche cosa di sé, magari evitano di essere madre. E non è detto che lo facciano in modo conscio, semplicemente magari non restano incinta. Questo è l'effetto di una credenza limitante che ci limita, perché pensa che se noi diventiamo madri, siamo limitate in altri settori della nostra vita. Questo è solo per farvi un esempio, come c'è qualche cosa da elaborare. Devo vedere comunque la giustizia sette di pentacoli, perché di nuovo tutto mi dice che, guardate, c'era sotto anche la carta del papa. Devo vedere la giustizia. Dieci di spade. E quattro di spade nuovamente. Siccome è il sette di pentacoli, è un'altra carta che mi parla di gravidanza, però diciamo tecnicamente si può tradurre come attesa. Poi sì, si parla anche di dolce attesa, però qui ho come la sensazione che le carte vi dicano aspettate che le cose siano mature, aspettate di guarire certi condizionamenti che avete e dopo cercate qualche tipo di accordo legale. Questo è un accordo legale. Quando arriva la giustizia, ragazzi, sono contratti che arrivano, sblocchi burocratici, sono questioni che si regolarizzano. Sono anche cose che vengono a galla, certe volte, e in molti casi si parla di giustizia divina, come se arrivasse quello che state aspettando. Vi dico, con due quattro di spade e tutte queste belle carte, è un po' come se vi invitassero a occuparvi prima di guarire il vostro cuore e questo modo di pensare un po' negativo, perché poi avete tutti i presupposti per andare verso nuovi accordi che siano lavorativi, romantici e uguali, nuovi accordi, più indipendenza, eventualmente nuovi progetti o la gestazione di un progetto o di un bambino. C'è questa relazione che cresce, che va verso qualche cosa di più profondo ed è tutto fatto poi in equilibrio. Quindi io la vedo parecchio bella, la lettura, ragazzi. Vi dico, soprattutto se state pensando di materializzare qualche tipo di progetto, qualche tipo di contratto, pulite prima un pochettino il vostro modo di pensare, però poi qui avete tutti gli appoggi che potreste desiderare, sia economici che morali, che pratici anche. L'unica roba è che dovete, roba, vabbè, l'unica cosa è che dovete pulire i condizionamenti mentali. C'è qualche cosa all'interno di voi stessi e della vostra testa che con questo diavolo vi condiziona, vi blocca. Potrebbe anche essere, c'è qualcuno che potrebbe avere questo tipo di idea, sapete che io ogni tanto sento cose e ve le dico come mi arrivano poi. C'è chi risuona, c'è chi no, prendete quello che vi serve. È come se ci fosse qualche pensiero limitante legato alle collaborazioni A3. Cioè per la serie, mi sta bene collaborare con un socio, ma quando le teste da due diventano tre, le cose si complicano. Ecco, questo può essere un altro pensiero limitante. Cioè non è detto che le cose si complichino. Magari sono solo un po' più lente, però si riesce a trovare una soluzione più idonea a creare denaro, per esempio, in tre. Perché tre teste vedono meglio di due, no? Ci sono più esperienze a confronto, più punti di riferimento, più punti di forza da poter estrapolare da ognuna di queste menti. Ecco, va bene ragazzi, andiamo a vedere un oracolo per darvi qualche consiglio aggiuntivo. Comunque devo dire che questa Eclisse di Sole porterà qualche nuovo progetto di sicuro. Poi per voi potrebbe essere, ripeto, fortemente ho la relazione romantica e la gravidanza. Se non vibra così per voi può essere qualche nuova collaborazione a livello lavorativo, qualche nuovo contratto che finalmente arriva, che finalmente si sblocca. E l'inizio di nuovi progetti, di nuove collaborazioni fruttifere. Guardate, questa carta è bellissima, è un Koan Zen e dice L'onda e il mare sono uno. Cioè praticamente siamo tutti nella stessa barca. Questa carta mi ricorda la legge dello specchio. Cioè, la legge dello specchio dice che quando ci dà fastidio qualche cosa nell'altro è perché quel qualche cosa non è stato lavorato dentro di noi. Se ci dà fastidio il disordine negli altri è perché noi stessi non ci permettiamo di essere disordinati. Per farvi un esempio come un altro. E qui invece vi dice un po', appunto, guardate che quello che vediamo negativo magari degli altri, quello che pensiamo negativo che ci limita magari riflette una nostra insicurezza, perché siamo tutti lo specchio degli altri fondamentalmente. Ok, vi do ancora una meditazione di Findorn che io adoro. Benedetto è colui che ha il cuore traboccante d'amore e di gratitudine, che rende grazie per ogni dono buono e perfetto, che riconosce in me la fonte e il donatore come mio canale, nel quale e attraverso il quale io lavoro. Il modo migliore per portare nella tua vita l'amore è la prosperità, e benedire ogni cosa e rendere grazie per ciò che di più ti viene dato, non dando nulla per scontato o pensando di averne diritto. Wow! Sì, perché noi diamo per scontato di aver diritto a certe cose, e invece non sempre così scontato. Cari amici della prima scelta, della scelta del sole, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, se avete piacere potete anche iscrivervi e condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete abbonarvi al canale. I temi trattati li potete vedere andando nelle playlist che hanno la copertina lilla, i titoli si vedono, e se per caso decidete di abbonarvi, vi consiglio di iniziare dalla playlist del percorso di crescita, la mappa concettuale del percorso evolutivo. Bene, io vi auguro il meglio, vi mando un abbraccio, e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone della seconda scelta, anche per voi andiamo a vedere che cambi porterà, o cosa porterà l'eclisse di sole. Vi ricordo che le letture sono collettive, è facile che non risuoni tutto, prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non risuonasse nulla, potete ascoltare l'altra lettura. Vi invito anche a guardare la descrizione sotto nel video, perché potete trovare il link a video interessanti, alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti che sono presenti sul mio canale. Bene, andiamo... Ok! Partiamo con un carro, un fante di spade, un carro, un carro, un carro, un carro, un carro, abbiamo un re di bastoni, una regina di spade, un re di bastoni, e giustizia. E ci è uscita anche all'altra lettura, la giustizia, come carta finale. Dunque, ragazzi, qua non ho indicazioni precise se sei più sul lavoro, sugli affetti, o cose di questo genere, o come la sensazione che potrebbe essere... Riguardo un cambio di direzione, potrebbe essere nella vostra vita. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta così. Riesco a darvi delle spiegazioni più precise. Andiamo a vedere questo carro. Otto di bastoni e il mondo. Credo che ci sia qualche cosa che ha a che vedere con un trasferimento, con un viaggio, con un movimento, con un cambio. Potrebbe essere un trasloco, potrebbe essere un trasferimento a causa del lavoro, anche se non lo sento tanto. Andiamo a vedere il fante di spade. Qua abbiamo la luna e la temperanza. Ragazzi, devo dire che sento una certa titubanza di fronte a questo cambio. Allora, non so ancora se il cambio lo avete già fatto o se è una cosa che avverrà. Perché ho come la sensazione che qualcuno sia già in fase di cambio. però è come se ci fosse da monitorare tutto. E la temperanza al contrario mi dice che c'è anche qualche cosa da riequilibrare. Potrebbe essere perché abbiamo la luna che parla di proiezioni mentre il fante di spade è qualcuno che tende a ipercontrollare diciamo quando c'è una carta cupa di fianco. E ho la sensazione che qui ci sia qualche cosa che state cercando di scoprire o di far venire a galla o appunto di monitorare. Andiamo a vedere questo re di bastoni. abbiamo un mago e di nuovo il carro datemi una carta per il mondo cavaliere di bastoni allora qui potrebbe essere il trasferirsi da qualche parte per stare vicino a qualcuno potrebbe essere anche un genitore non necessariamente il o la partner andiamo a vedere questa regina 3 di coppe e amanti ragazzi per qualcuno mi risuona come se ci dovesse essere una scelta e infatti anche qui il carro è la prima carta che parla proprio di una scelta dove vado a destra o a sinistra e poi qua potrebbe anche essere la comunicazione di una fine ciclo perché abbiamo il mondo è come se qualche cosa si completasse si concludesse allora in realtà qui ho come la sensazione che appunto ci sia una scelta da dover prendere tale scelta va valutata molto attentamente tenete presente che in questo momento siete in un momento dove non avete tutta la verità chiara quando c'è la carta della luna è perché o ci sono proiezioni o la verità si vede a metà quindi è come se mancassero delle informazioni per quello probabilmente che vi hanno dato il fante di spade proprio per invitarvi a approfondire certi temi a ricercare proprio a studiare è come se vi invitassero ad andare a fondo di certe questioni e poi con il mago qua un po' come se vi dicessero ok una volta che queste questioni sono state individuate si inizia a far qualcosa per riprendersi il proprio potere personale riprendersi il re di bastoni per riprendere in mano le regine della propria vita e qui con questa regina di spade ragazzi devo dire che sarà un vantaggio essere determinati non farsi scrupoli a scegliere per amor proprio la regina di spade è una di quelle di quelle carte di quelle energie fredde è una donna che è arrivata dove è arrivata perché appunto non si fa scrupoli a tagliare quello che non serve più non è una sentimentalista per capirci se una cosa non serve più si lascia indietro punto e fine della storia e qui un po' la stessa cosa c'è un tre di coppe andiamo a vedere questo tre di coppe sì allora qui abbiamo fante cavaliere e re di bastoni io come la sensazione che potrebbero esserci più di due persone coinvolte che sia una storia a livello non lo sento tanto romantico forse più passionale oppure che sia una questione di lavoro devo dire che è come se ci fosse per qualcuno si tratta di licenziare qualche dipendente non tanto perché il dipendente non serva ma è perché ho come la sensazione che rivedendo e ristudiando un attimino le strategie d'attacco o se l'azienda si trasferisce come se ci fossero delle diciamo degli impedimenti o se fosse più saggio per l'azienda lasciare a casa certi personaggi e nel caso appunto fosse una relazione plurigama vi dico che qualcuno con questa regina di spade è nella necessità di lasciarsi indietro qualcuno andiamo a vedere il 3 di bastoni oh il diavolo eh lo so ci sono dei condizionamenti c'è qualche cosa che vi stringe è per quello che è arrivato alla regina di spade perché qui non bisogna farsi prendere troppo cioè la regina di spade fa i conti e dice questo serve questo non serve questo serve questo non serve semplicemente in modo solo razionale e poi da lì si decide però con questo diavolo c'è qualche cosa che assolutamente vi condiziona vi schiavizza diavolo 8 di spade e cavaliere di spade ho un po' come la sensazione che vi dicano di affrontare le vostre paure è una paura a guardare in avanti è una paura cioè molte persone si chiedono e come farò in un futuro e come sarà se succede questo e come e sono un po' quelle cose che condizionano però molto lo dà questo 8 di spade girato al contrario che mi dice che state pensando molto negativo cioè cercate di controbilanciare va bene essere pronti per gli eventuali colpi che potrebbero arrivare però non vuol dire focalizzarsi solo su quelli ma semplicemente tenerli presenti per essere pronti nel caso succedano però è come se ci dovesse se si dovesse sviluppare un'attitudine positiva e soprattutto con questo cavaliere di spade ragazzi sento che dovete andare incontro alle vostre paure allora quando abbiamo paura e questo lo sto spiegando in modo molto dettagliato nella sezione degli abbonamenti quando abbiamo paura il nostro corpo diciamo che ha due modalità di affrontare la paura la prima è la lotta la seconda è la fuga o scappo o lotto e qui ragazzi siete in fase di lotta , ce la potete fare ce la potete fare basta cambiare il pensiero negativo che avete e andare avanti per la vostra strada e con la carta della giustizia alla fine ragazzi giustizia divina giustizia sarà fatta mi viene da dire se state aspettando qualche tipo di accordo di sblocco burocratico o similari la carta della giustizia parla proprio di quello è una carta di contratti è una carta di cose che vanno fatte secondo la legge in modo regolare è una carta che porta a riequilibrare i piatti della bilancia adesso andiamo a vedere e comunque quando si tratta di paura per esempio ho paura di nuotare il punto è o non affronto mai la mia paura e sono sempre lontano dal mare e mi precludo mi vincono mi condiziono dal provare certe esperienze oppure semplicemente affronto la paura cioè vado in acqua piano piano poi se non so nuotare userò non lo so una tavoletta un salvagente i braccioli e inizio piano piano ad affrontare questa paura e un modo anche per smontare le paure a livello mentale è quello di chiedersi se anche adesso vabbè ho scelto proprio un esempio la paura dell'acqua dove in casi estremi uno affoga però prendiamo un esempio più semplice ha paura di fallire in qualche tipo di progetto e uno dice e se anche fallisco che cosa potrebbe succedere di terribile perdo dei soldi e muore qualcuno cioè se per i soldi si possono rifare cercate magari di fare investimenti prudenti ok però non fatevi spaventare la paura perché è un qualche cosa che crea l'ego e viene creata come mezzo di difesa per non cambiare andiamo a vedere la giustizia 7 di bastoni e remita ragazzi lottate di nuovo il 7 di bastoni è la carta della lotta solitaria di qualcuno che è in una posizione di vantaggio e ce la fa pienamente a portare avanti le proprie battaglie le proprie teorie le proprie verità l'eremita vi ricordo che è il ricercatore della propria verità ed è un uomo saggio perché ha già maturato una dose abbastanza massiccia di esperienze che gli permette di far fronte a questo nuovo cammino a questo nuovo percorso anche in modo solitario è una bellissima lettura è una lettura stupenda ragazzi qua arriva un cambio di direzione o è anche un cambio nel vostro modo di affrontare certe questioni forse un po' più rigido ma con maggior amor proprio si tratta anche un po' di mettere dei paletti di portare avanti le vostre idee e di togliervi da certe tossicità e certe come vi posso dire incapacità di cui voi siete convinti vi sento sento come se certe persone pensassero di non essere all'altezza di fare certe cose che è troppo duro però vi dico iniziare a essere così è duro la prima volta una volta che riuscite a fare il passo la prima volta la seconda è già più facile la terza è ancora più facile alla quarta non dico che viene naturale ma diventa già un quasi una dinamica di comportamento ok bene andiamo a vedere ancora un koan un un messaggio buttista un messaggio zen su cui meditare o ne abbiamo tanti ne abbiamo tre guarda e vedi con i tuoi occhi se esiti non coglierei mai il versaglio e come dire chi non risica non rosica qua si tratta di buttarsi nonostante la paura fate i vostri piani controllate tutto quello che dovete controllare ok però appunto poi agite con questo mago agite voi stessi perché siete voi che dovete vedere le cose come funzionano in prima persona poi abbiamo un'erbaccia è un tesoro e un tesoro è un'erbaccia che carina questa ragazzi è un po' come se vi dicesse che dipende tutto dal modo in cui voi vedete le cose 8 di spade qui ce l'avete anche al contrario quanto siete negativi un'erbaccia quello che viene visto come un'erbaccia può essere effettivamente un tesoro e alle volte quello che si pensa essere un tesoro è un danno è un'erbaccia tipo vi faccio un esempio molte persone pensano che con la ricchezza si arrivi alla felicità invece molte volte con la ricchezza arrivano i problemi e quindi può essere un'erbaccia era solo un esempio eh ok se cammini cammina se sei seduto siedi ma non esitare l'importante con questo carro è prendere una decisione su che direzione si vuole prendere su da che parte si vuole andare e l'importante è andare magari un passettino al giorno fate passetti da formica non importa però qui la sostanza è di non stare fermi ok di non esitare di non pensarci troppo e se fallisco e se fallisco fa niente la vita è fatta di quello cioè io per imparare qual è la cosa giusta per me vado per tentativi e prima sbaglio per forza è raro sono rare le occasioni dove imbrocco al primo tentativo la cosa giusta per me andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn per concludere la lettura vediamo cosa vi consigliano ancora la mia divina legge dell'unità lavora dentro di te liberandoti da tutte le negatività superando ogni ostacolo ed ogni minaccia colmandoti di vita di energia rinnovandoti e rinforzandoti io sono la saggezza io ti guido e ti dirigo in ogni tua azione resta costantemente consapevole di me la tua divinità bellissima carta il mio amore illimitato la mia illimitata verità la mia illimitata saggezza non hanno né inizio né fine ma vanno da un'eternità all'altra sii consapevole di questo fatto accettalo assimilalo fino a che divenga parte di te è la vita vita ancora più abbondante il cielo stesso ti appartiene perché tutto ciò che ho è tuo e tu sei mio perché siamo uno ora e per sempre per ogni cosa rendi grazie in eterno bellissimi messaggi devo dire amici della seconda scelta fatemi sapere come vi risuonano e se vi sono stati utili se volete sostenere il canale mettete like iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale se volete dare uno sguardo ai temi trattati nella sezione degli abbonamenti li trovate nelle playlist lilla i titoli sono liberi sono visibili a tutti e se decidete di abbonarvi vi consiglio di iniziare dal playlist della mappa concettuale del percorso di crescita perché quella è diciamo il primo approccio per capire la dinamica un po' in generale del percorso di crescita bene cari amici io vi ringrazio di essere stati qui con me vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video ciao 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 ciao